elenco concorrenti o meglio naufraghi dell'isola dei famosi 2024 saranno in totale 13 naufraghi che si contenderanno la vittoria e dovranno dimostrare chi è più forte tra questi i concorrenti sono i seguenti da come si legge sul blog di Davide Maggio bene, Serenna, la famosa ex attrice a luci rosse Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello, Marina Suma Edoardo Franco, Arez Senol, Gio Bazziani, Artur Dainese Edoardo Stoppa, Samuel Peron, la bella Valentina Vizzari e Maître Iannes bene, questi sono i naufraghi che dovranno partecipare all'isola dei famosi 2024 in studio ci saranno due opinionisti la bella Sonia Brucanelli e Dario Maltese per quanto riguarda l'inviata di l'isola dei famosi sarà non più Alvin ma verrà sostituito dalla bella, brava e simpatica l'eroma Casarigno, va bene? quindi complimenti dunque a tutti la conduttrice non è Ilari Blasi ma è Bratibir Luxuria va bene? la diciottesima edizione prenderà il via l'8 di aprile 2024 iscrivetevi, commentate, ciao a tutti grazie a tutti